Un medico è andato a visitare un paziente a casa sua, è stato aggredito e buttato giù per le scale. Successo a Frazzanoa, il giovane dottore in servizio in una postazione del distretto di Sant'Agata Militello ha riportato la lussazione di una spalla. Scene di ordinaria amministrazione che vedono sempre più spesso protagonisti il loro malgrado, gli operatori del servizio d'emergenza. In questo caso, come ricostruito dai carabinieri di Mirto, allertati dai colleghi del 118 andati a supporto del medico, il paziente, affetto da problemi psichiatrici, quando il dottore lo ha invitato a seguirlo per fare gli accertamenti, si è ribellato. E nel tentativo di divincolarsi ha spinto il medico giù per le scale. La cosa destra ancora più stupore, considerando che il medico è stato aggredito presso il domicilio della famiglia dove era stato chiamato per una visia domiciliare, scrive l'azienda sanitaria provinciale di Messina, che insieme all'Ordine dei Medici manifesta solidarietà al collega vittima di aggressione. L'ASPE e l'Ordine dei Medici hanno già attivato, in esito a tavoli di confronto con le organizzazioni di categoria, delle azioni di messa in sicurezza e adeguamento dei presidi di continuità assistenziale in applicazione delle norme nazionali e regionali in merito proprio alla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dei presidi di continuità assistenziale. Solidarietà arriva anche dalla Federazione Italiana Medicina Generale. La situazione è ormai diventata insostenibile, scrivono ogni giorno e ogni notte in tutte le strutture sanitarie, dall'ospedale alla guardia medica, i professionisti rischiano aggressioni da parte di pazienti o parenti e in guardia medica il problema è anche più accentuato ed aggravato dall'estrema solitudine in cui è costretto operare il medico. A scrivere Stefano Leonardi che è in calza, la solidarietà però adesso non basta più e chiede il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale nell'esercizio e le funzioni con la procedibilità d'ufficio nei confronti e l'aggressore. Occorre e conclude con immediatezza a mettere in sicurezza tutti i presidi di guardia medica. È giunto il momento di darsi da fare tutti in assoluta sinergia, dalla politica in generale al governo nazionale a quello regionale fino alle singole aziende sanitarie con un unico obiettivo comune.